Benvenuti a tutti All'inizio della stagione 2016-2017, subito dopo il debutto dello spettacolo più atteso, Il Giardino dei Ciliegi, di Chekhov con la regia di Walter Malosti, inauguriamo anche questo nuovo ciclo degli incontri di retroscena. Il primo, purtroppo il pieghevole non è ancora pronto, ma avete già tutto il calendario nel programma a libretto che trovate in distribuzione già fuori. Il primo incontro è annunciato sul sito e c'è stato un certo tam tam per cui vi ringrazio di essere venuti, man mano c'è altro pubblico che sta arrivando. E questo primo incontro naturalmente è dedicato all'analisi, alla discussione su questa straordinaria messa in scena che ha debuttato l'altro ieri, ieri sera ancora, diretta da Walter Malosti. E abbiamo chiesto al professor Antonio Pizzo di condurre questo incontro, come d'uso tutti questi nostri incontri sono affidati ad un intenditore, ad uno specialista. Infatti il professor Pizzo ha pubblicato pochi anni fa un volume apposta dedicato ad una importante messa in scena del giardino dei ciliegi, quella di Peter Brook. E a lui cedo la parola per la conduzione di questo incontro. Un'oretta, sappiamo che c'è la nostra telecamera che lo riprende, potremmo rivederlo poi sul sito del Teatro Stabile attraverso il canale YouTube. E do il microfono e la parola al professor Pizzo, prego. Grazie, grazie a tutti. Io ti invito anche il professor Walter a salire. Ti ringrazio, ringrazio naturalmente il Teatro Stabile per aver di nuovo voluto questa bella iniziativa retroscena che sono onorato di inaugurare. E' ancora più contento di inaugurare con un testo al quale, come ha accennato Pietro, sono particolarmente affezionato. Il mio compito sarà quello di moderatore, ma proprio per introdurre la discussione tra di noi vorrei ricordare che il giardino è un testo difficile. Sì, tutti i testi teatrali sono difficili, è vero, però all'interno della produzione cecoviana è veramente difficile. E' l'ultimo che lui scrive, ci muore poco dopo, insomma, viene messo in scena una volta il giorno del suo compleanno nel 1904 e lui in verità non riesce, cecov, a vedere il pieno successo della sua opera. Perché, ripeto, è un testo difficile, ma sul serio, pensate solamente che è vero che Cecov non è che sia un autore di action movie, insomma, non è che proprio è pieno di azioni, però qui proprio e nessuno si sposa, e nessuno si spara, e nessuno si tradisce. Che diavolo succede? E questi testi messi in mano a un regista gli danno proprio la possibilità al regista di rivelare la sua sensibilità teatrale perché sono testi che non si possono leggere, bisogna vederli, vederli vivere. E poi è un testo che fin dall'inizio ha rivelato le sue difficoltà. Hanno litigato al Teatro d'Arte di Mosca, Stanislavski, anche la moglie di Cecov, Olga Nipper, che era, insomma, lì che faceva da Trampi, tra il marito Cecov e Stanislavski e Dan Cecov. Ci hanno un po' litigato, eh? Perché non si trovavano su nulla. Perché Cecov continuava a dire io sto scrivendo una farsa, finalmente scriverò un testo che ha del comico, del leggero. Stanislavski e Dan Cecov non ce l'aspettavano, ma quasi non l'ascoltavano, pensavano fosse quasi una burla. Quando arriva il testo, già anche sulla distribuzione non si incontravano. Per esempio Stanislavski non ha accettato di Paolo Pachin, che era invece il personaggio che Cecov aveva in mente. Ed è un personaggio che aveva ragione, Stanislavski, che non c'entrava con la sua figura, forse con la sua storia. Ma in verità Cecov aveva intenzione di far lavorare proprio il testo nel diametro tra la storia dell'attore e il personaggio che aveva. E non si sono trovati, comunque. Perché anche nella mensa in scena, naturalmente, Stanislavski ha seguito il suo modello, ha aggiunto molte azioni, ha calcato la matrice sentimentale. e Cecov non si ritrovava in ciò. Dunque, proprio su questa difficoltà, su questa difficoltà del non far nulla, del non accadere nulla, che io ho sempre trovato una sfida enorme in questo testo, che richiede grandi compagnie, e capaci registi, evidentemente, per essere messo in scena. Quali sono state le linee che hai avuto per affrontare questo tipo di difficoltà? Sì, buonasera a tutti. Intanto, secondo me, il teatro di Cecov è un teatro di attori. Cioè, sono testi proprio destinati agli attori. Non, diciamo, il regista può fare un po' la direzione d'orchestra, secondo me. Poco di più. Proprio per il discorso che faceva prima Antonio, che riguarda il fatto che queste parti sono scritte, ma non sono scritte. Gli manca un pezzo, gli manca proprio la carne del... Molto teatro è scritto così, ma questo in particolare. Cioè, Shakespeare, quando lo mette in scena, anche se la compagnia è pessima, diciamo che in qualche modo, per male che lo fai, insomma, regge, perché il teatro è talmente forte, alto. Invece il teatro di Cecov, e in particolare questo testo che è altamente sperimentale, secondo me, anche se non sembra, non ti permette in qualche modo di appoggiarti alle parole. Non basta. Sono necessarie due cose. Uno, un'energia spropositata, e gli attori ben lo sanno in questi giorni che stiamo andando in scena, qual è l'energia, serve per ridare quella... E l'altra è la persona. Cioè, non è possibile fare questo teatro se dietro, diciamo, l'attore e la sua tecnica non c'è la persona. Cioè, ci vuole l'originalità del percorso dell'attore, ma ci vuole anche proprio la persona che è dietro questa famosa maschera. E non è facile, perché poi bisogna poi dare credibilità, bisogna, insomma, la cosa su cui ho insistito tantissimo con i miei attori meravigliosi, ho un cast bellissimo, che adesso poi ti presentiamo, insomma, vengono a parlare loro, che è più interessante di quello che posso dire io. Ma la cosa meravigliosa è che sono... devono, in qualche modo, per ottenere questo risultato di credibilità, devono darsi in una maniera totale, ed è molto faticosa. E il risultato non è facilmente comprensibile così a un... Bruclo dice in maniera proprio pre-precisa, cioè sembra un testo quotidiano, ma in realtà è la vita compressa, è come fosse stata diofilizzata. E quindi per restituirla bisogna mettergli il brodo umano, se no non si riesce poi a farla volare, a farla viaggiare. Oltretutto, la difficoltà del testo è che sono, in questo caso, 14 traiettori umane, di vita proprio, una diversa dall'altra. E il testo regge soltanto se metti i pezzi insieme. Io qualche giorno fa ho fatto questo paragone con l'aereo, tu vedi i pezzi di un aereo, uno per uno, non serve a niente, lo devi montare, allora vola. E il testo è costruito così, vola soltanto su tutti i pezzi, diciamo, sono, cooperano, diciamo, al volo. Per me anche, diciamo, l'altra difficoltà è che per Ciecov è una farsa, un vaudeville, per Trinitlasky no, per me la difficoltà del testo è che tutte e due le cose insieme. E quindi bisogna essere, avere la forza eversiva degli attori comici, e di vaudeville, quindi la grande libertà, e nello stesso tempo bisogna metterci l'umanità. Quindi la difficoltà è quella. E a tutto questo bisogna aggiungere un lavoro musicale. Il testo poi, avendoci lavorato a lungo, ha un andamento musicale fortissimo, quasi inavvertibile, così a prima vista, ma invece precisissimo, nelle sue pause, nelle sue, diciamo, interpunzioni, che va dato. Se, ormai, sappiamo anche noi, cioè tutti quanti insieme, ci accorgiamo se un dato passaggio è stonato, se sotto ritmo, perché una volta che è partita la macchina non si riesce più a tornare indietro. Beh, l'idea del testo corale è una cosa che è centrale, specialmente in questo testo. Come tu dicevi, forse è strano, perché non sembra che lui scriva, forse delle battute, sembra che scriva dei luoghi che l'attore deve abitare, ma deve farlo suo. Cioè gli dà dei contorni, ma sono delle tracce che lui poi deve riempire. Certo, questo è vero forse per ogni testo, ma ancora di più, perché ancora una volta diceva che sto facendo qui se non riesce a viverla. E poi vorrei, e su questo magari vorrei chiedere se siete d'accordo, c'è una mano agli attori di entrare. Perché è vero che ci sono dei, credo che forse qualsiasi attore, lo chiederò a voi, si trova di fronte al problema del quale linea seguire, come bilanciare appunto il sentimentalismo forse il grottesco, l'ironico, l'amaro. E ogni personaggio ha la sua via per farlo. Per esempio, sembrava che a Chekhov il modo in cui Organipper avesse realizzato il personaggio non lo convinceva. Sembrava che fosse troppo sentimentale, non accennava, non gli piaceva. E non vorrei anticipare, ma non mi sembra che Liuba in questo caso, in questa messa in scena, abbia trovato un modo per muoversi in questo ambiente. e su questo, se sei d'accordo, vorrei chiamare la tua attrice. Elena Bucci. Bene, come Liuba appunto che è un personaggio, sai, quelli, dei montagni da scalare, da superare, e come l'hai scalato? Ma, devo dire che lavorare in questa compagnia con Walter, con i miei compagni di lavoro, con Walter alla guida, è stato, ci ha permesso di affrontare questo testo in una maniera fresca, limpida e vitale. È chiaro che tutti noi abbiamo presente i grandi esempi del passato ed è giusto che ci siano. Allo stesso tempo abbiamo preso questo testo e abbiamo provato ad andarci dentro con tutta la curiosità e la vitalità del presente, di quello che siamo noi. Non potevamo fare diversamente da questo. E Walter ci ha proposto da subito una sua lettura che secondo me e credo secondo noi l'abbiamo seguito con un entusiasmo, è molteplice, varia, senza pregiudizi iniziali, vitale, in cerca di quello che succede. Ovviamente c'è stata una traduzione a monte, c'è stato un grande studio del testo e della precisione del testo, della capacità di Cecco di scrivere sembra una scrittura così naturale, in realtà è calibratissimo ogni parola in più, ogni parola in meno e abbiamo misurato sulla nostra pelle cosa vuol dire aggiungere o togliere, tant'è che alla fine non abbiamo aggiunto tolto quasi niente da quel lavoro di Dio Amaturgia. E quindi questa, questa, siamo andati dentro proprio al mistero di Cenkhoff che aveva in mente degli attori vivi, dell'atmosfera vive, viveva profondamente intensamente la vita che gli sfuggiva via tra le mani e questa vita in qualche modo lui la chiappava senza vittimismi, autocommiserazione, senza, ma con tutto lo spettro, con la bellezza di quando viviamo e da un momento all'altro i nostri stati d'animo se li ascoltiamo veramente mutano incredibilmente, siamo selvaggi dentro, siamo, il sentimento, la risata, il pianto, si muovono a una velocità impressionante e perdere quella consapevolezza e quella capacità di essere intensamente vivi è una perdita di piacere nella vita e quindi abbiamo seguito con grande gioia questa lettura di Walter che ci portava verso il vaudeville, puoi dire verso il vaudeville è anche un dire provocatorio nel senso verso il vaudeville ha senso dirlo proprio perché si affrontano anche tematiche grandi, grandissime e a volte appunto sembra non succedere niente, si entra in un ritmo vertiginosamente comico poi all'improvviso una riflessione lancinante e poi l'azione si ferma, si disperde in un linguaggio talmente vario e complesso che grazie a Dio non si riesce a confinarlo in una categoria in un librerio ho sentito poco tempo fa ed era sicuramente una signora molto colta chiedeva di un libro aveva voluto un libro e la libraia gli ha detto guarda ho letto questo qui è molto bello molto vivo e lei ha detto sì ma dove l'ho in casello ho detto lei mi ha sentito proprio un brivido ho detto ecco speriamo che nessuno dica dove l'ho in casello del nostro lavoro e credo che sarà molto bello e la compagnia in questo è stata straordinaria il padre ha fatto un'alchimia siamo tutte persone di provenienze diverse perché poi il personaggio i personaggi singoli non possono prescindere dai compagni di lavoro dalla loro carne sangue natura pensieri energia anche muta fisica animale e quindi la compagnia è fatta di tutti tutti diversi però che hanno avuto una nota ci siamo accordati su una nota comune che ha reso un impasto anche lo dico pubblicamente anche se tra di noi lo diciamo piano perché ogni tanto ci dicevamo spesso ma com'è che stiamo così bene e com'è che e poi diciamo prima o poi succederà qualcosa di terribile intanto per il momento sta andando così merito avanti il tema di questa irresistibile vitalità che tu hai infuso in qualche modo e richiesto e che loro riescono a restituire così forte è evidente cioè fate siete vitalissimi siete cambiate fate appunto in un testo in cui se non accada nulla e invece c'è una vitalità in scena fortissima fra l'altro questa ha dato il tuo hai deciso forse proprio per raggiungere vitalità di rendere più vitale un personaggio che è molto sullo sfondo anche se è fondamentale perché tu hai chiesto al maggior al maggior domo di fare da sfondo e contenitore alla vicenda da falleggere e da scalire cioè è colui che ospita sembra questo gruppo di scalmanati e su questo io chiederei Piero Nuti è un personaggio ciao è un personaggio che è diventata fondamentale in questo spettacolo ancora più di quanto lo è nel testo è il personaggio che chiude lo spettacolo eh non è stato facile non è stato neanche difficile come posso dire io parto sempre da quando affronto un personaggio parto sempre dalla massima verità in questo io non trovo grandi difficoltà in questo Chekhov è la vita noi siamo tragici drammatici comici sentimentali siamo tutto questo e nel corso di una intera giornata normalmente tutti questi sentimenti vengono fuori tutti questi modi di vivere questi modi di essere io posso essere sereno e tranquillo e all'improvviso scoppiare in una lite con qualcosa che non mi va e poi immediatamente ripeto non lo so siamo fatti così è inutile complicarci l'esistenza Chekhov vuole questo secondo me vuole la vita vera allora più tu attore riesci ad essere vero e più vince la tua la tua battaglia io mi sono trovato a fare questo personaggio che è contro tutti i miei modi di vedere la vita perché non sarei mai un servo di un'idea così folle come hanno questi due miei padroni però io dico ho rifiutato la libertà e ho accettato sono rimasto con i miei padroni perché è un fedele si è proposto di essere questo e questo è stato fino alla fine poi fino alla fine si rende conto che la sua vita Pifferi è scappata è passata non c'è più e forse non sono riuscito neanche a viverla questa vita ma è la realtà di tanti di noi e in questo senso Walter mi ha aiutato ad essere questo penso di averlo fatto decentemente io state a dire se l'ho fatto o no torna il tema della vitalità ma allora voglio tornare un momento a Walter perché tutta questa vitalità che pur emerge sul piano del disegno scenico che tu hai scelto sembra trovare come un ostacolo una contrapposizione scegli un'impostazione il Chekhov bianco leggero che evoca neve e spazi non è quello che trovate in questo spazio anzi sullo sfondo se qualcuno non l'ha ancora visto non voro fare spoiler quindi non dirò molto ma c'è una scenografia che si impone proprio si impone sui personaggi vorrei con un finale non so se riveliamo o meno decidi tu no non lo riveliamo però le scelte che tu hai fatto che sono molto marcate per quanto riguarda la scena ne vuoi parlare? sì dunque ma intanto l'idea scenica è nata io parto sempre dal testo da un proverbio che di solito non viene tradotto perché in italiano non ha un corrispettivo esatto che era una frase che dice Trofimo che dice a un certo punto quando Liuba dice ma l'asta com'è andata e lui dice ma non importa ormai tutto è già fatto l'erba ha già invaso il sentiero che è un detto russo che noi non so magari qualche regione ce la userà ancora insomma comunque avete presente gli edifici abbandonati quando la natura si riappropria del suo terreno della sua casa insomma e quindi è nato tutto da lì e allora da lì ho immaginato questo edificio così in rovina però è distopico cioè non è esattamente quello che se il serpe in qualche modo come struttura visto che abbiamo parlato appena adesso di Firs perché avevo queste due idee ho poche idee all'inizio ci hanno poche idee questa era una e l'altra era quella di Firs che doveva in qualche modo essere l'are della casa già presente lui è come fosse murato lì dentro quindi come in un film di Stephen King entrato da Stephen King c'è questo signore adesso poi va anche di moda negli ultimi anni questa queste idee dei vivi non vivi insomma non posso dire l'altra idea perché mi hanno dato questa idea ma la dico lo stesso che poi le cose si accavallano ultimamente mi hanno interessato molto mi hanno interessato molto la musica elettronica russa voi dite con Cekof che cavolo c'è e invece sì perché poi appunto ho trovato questi archivi ho comprato tutti i dischi di questo archivio della musica elettronica avevano questo sintetizzatore che si chiamava Hans se non mi ricordo male che era il corrispettivo del nostro Moog con cui Artemiev che è il compositore di Tarkovsky ad esempio già negli anni 50 componeva delle cose elettroniche e uno di questi compositori che poi è diventato uno dei compositori più importanti del nostro tempo si chiama Guba Itulina ha scritto un pezzo che si chiamava Vivente non vivente allora voi dite come mai da lì mi è venuta questa intuizione di questo vivente non vivente c'è una casa in cui non sai chi è vivente e chi è non vivente avevo bisogno di un custode di questa casa ovviamente Fierce che rimane lì dentro che in qualche modo viene visitato da tutti i personaggi che ritornano ma siamo negli anni che poco dopo ci sarà pieno e spesso ci dimentichiamo delle concomitanze delle date 1904 Piero Andera inizi a scrivere il teatro in quegli anni poco prima e poco dopo scrive i sei personaggi ma già li stava covando dentro e l'altra cosa è la presenza della storia ho bisogno di questa struttura molto solida della scena perché nel testo viene scritto nel 1904 anche lì noi essendo italiani e non studiando tanto la storia comunque anche uno lo sapesse non ci fa è subito caso nel 1908 scoppia la guerra con Giappone poco dopo ma nel 1905 c'è la famosa Domenica di Sangue in cui c'era la prima grande rivolta dei contadini e degli studenti che vengono massacrati tra l'altro quindi probabilmente Trofimo finirà lì morto a protestare e quindi la storia della Russia ma anche la nostra in qualche modo perché ci riguarda tutti quello che è successo in Russia ovviamente molto da vicino ha influenzato tutto quello che è accaduto anche da noi fino ad oggi fino alla caduta del muro appunto e volevo che ci fosse una presenza di quella storia che si vedesse e lo volevo soprattutto anche visivamente insomma poi questa cosa è mutata man mano ma è una cosa molto importante questo vuol dire che diciamo gli attori è una cosa molto difficile da capire però loro lo sanno sono tutti attori autori perché tutti loro sono o registi o scrittori o artisti indipendenti diciamo sanno quanto è importante la presenza nella società cioè il fatto che noi facciamo un certo però siamo tutte persone che viviamo nell'oggi e molti di loro spero anch'io insomma cerchiamo di essere presenti in quello che accade oggi allora questo questo correre queste traiettorie impazzite a me sembriamo molto noi è un momento in cui non c'è un'idea le ideologie stanno appunto come si dice piccono tutti sono azzerate e sembriamo come delle scie impazzite in marcia in corsa oppure qualcuno è più fermo qualcuno come Fiafuto qualcuno si ferma nella casa qualcuno rimane ancorato dalle cose più antiche ma è sempre in movimento alcuni stanno marciando chi sta marciando lo sappiamo benissimo chi è chi è in questo momento attraversa il mare in questo momento chi sta marciando però noi non sappiamo non sappiamo cosa accadrà è un momento molto simile a quello che c'è sicuramente io vi auguro di non cadere vittime di una rivoluzione ma voglio dire l'aria che si respira però solo non sappiamo quando e come qualcosa accadrà ma non lo sappiamo quindi questa presenza della storia e quindi diciamo la 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 virulenza di questa cosa sui personaggi in cieco è molto evidente e quindi insomma nella scelta di lettori ho anche voluto in qualche modo c'è 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 molta biografia anche anche in quelli che non conoscevo prima di incontrarli ero stato molto interessato alla biografia di ognuno di loro che poi vabbè qualcuno se è interessato se la vada a guardare perché sono tutti artisti di notevole livello anche diciamo dal punto di vista sociale nelle tue parole se avete mi sembra che sia emerso una emersa un elemento che in parte è cipoviano molto forte cioè tu hai messo insieme l'evanescenza di ipotetici fantasmi ma dall'altra parte hai segnalato molto forte il tema di ciò che accade della realtà della storia che accade a gente che viene ammazzata gente che muore e questa che è detta così è un po' ad alto livello sembra istillata all'interno della lettura del testo dal modo in cui tu sottolinei le cose che poi disegnate e io questa materialità cioè l'idea che il giardino dei Ciligi non è un giardinetto messo lì così romantico sono dieci chilometri di lato due volte Torino due volte Torino che produceva questa questa caratteristica viene fuori in due personaggi a questo punto ti chiede lei di poterli far invitare anche perché sono speculari sia nel modo in cui Gaia diventa veramente quel signorotto quell'imprenditore che non riesce ad esserlo ma con tutte le aree dell'imprenditore non è tanto un sognatore solo che gioca a bocce lui vorrebbe esserlo e dall'altra parte dal nuovo imprenditore che sa fare bene i suoi calcoli lo paghino e se non Natalino Balazzo Fausto Russo Anzi grazie 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 la farei piccolo beh saresti piaciuto tantissimo a Cepo io leggendo tutta la sua corrispondenza direi che gli piaceva gli sarebbe piaciuto tantissimo il tuo Gaia grande vita gran movimento piedi per terra e perdersi di tanto in tanto e devo dire che lo ha apprezzato tantissimo perché io non so come si possa fare se fosse un attore non saprei farlo proprio anche se fossi bravo il tuo ogni tanto uscire terminare la battuta come nel testo con una carambola a destra con descrizioni di giochi del biliardo lo fai con una delicatezza di cui gli faccio tutti i grandi complimenti io starei per ore a sentirti parlare di me ma per alzata di mano quanti hanno già visto il giardino dei ciliegi tutti quindi sappiamo di cosa stiamo parlando tranne diciamo 4-5 che non hanno ancora capito un cazzo di cosa sta succedendo io adesso non so se fare cioè l'unico motivo per cui sono stato chiamato qui cioè svegliare la gente che sta dormendo o se invece a tirarme un po' anch'io e parlare come se fossi un attore vero e invece la lettura che ve l'ho dato io intanto ho aderito a questa visione malostiana del ceco fotocainomane e devo dire che il giardino dei ciliegi è un giardino zen no? potremmo andare tutti con il rastrellino a tirare la sabbia no? perché è così in effetti cioè potremmo fare quando è finito il giardino dei ciliegi tutta una serie di commedia di serie televisive su tutti i personaggi perché Cekov non è che dice finisce così dice comincia così cioè dopo dove andranno non si sa Liuba sicuramente farà una serie ospedaliera perché è arrivata opera nel campo assistenziale no? Lopakin chiaramente diventerà padrone del governatorato comprerà anche il governo praticamente sarà un imprenditore così Firz seppellirà tutti ovviamente e i due i due Trofimov e Anya girano per il mondo li ritroveremo da Cenevara all'altro capo del mondo insomma quindi avremo tante storie e ovviamente la grigia storia che è una serie a puntate televisive di Dekayev che è impiegato in banca che insomma che affronta la sua grigia vita ma perché è un giardino Zain perché è proprio questo rifluire della vita che i ciliegi danno cioè ogni anno le ciliegie noi le prendiamo poi spiega tutto Firz facciamo le marmellate vendiamo eccetera è interrotta dall'uomo che tira giù tutto quanto però in realtà l'uomo è parte della natura infatti queste storie sono come proprio dei frutti che dopo rinascono e diventano un'altra cosa è circolare e secondo me la filosofia del giardino dei ciliegi è la filosofia di Pischik cioè lo scrocone di famiglia il quale dice qualcosa succederà e forse Cekov intende questo insomma perché diceva mi sento male speriamo che ci sia qualcosa anche dopo la morte perché non mi sento tanto bene io invece a quello che diventerà a colui sì a colui che diventerà padrone dell'universo abbiamo capito che così lo disegna però però c'è una debolezza che lui mette molto in chiaro cioè sì diventerà bravo fai soldi ce l'ha tanti però c'è il debole per l'Uba ma ce l'ha pesante il debole per l'Uba devo dire che in questo tanto l'hanno visto tutti non so insomma si bacia l'Uba l'Uba si limona la signora insomma questo è particolare e credo che tu lo porti avanti per tutto il tuo personaggio questo film dall'inizio molto chiaramente racconto le sensazioni impossibile parlare dopo l'Atalino Palazzo tutto è più noioso sì questo è un aspetto su cui ci siamo concentrati molto con Walter secondo me è molto trasuda molto dal testo questo aspetto questa debolezza che lui ha nei confronti di l'Uba probabilmente è la prima cosa che dice aprendo il testo c'è questo ricordo di lui bambino che ricorda questa signora e probabilmente questa casa questi signori lei sono stati il suo motore iniziale di di rivalza e lui forse ha ambito ad essere come loro e c'è qualche cosa di misterioso non saprei non abbiamo non l'abbiamo neanche definito con scorre qualcosa scorre una passione ma di che genere non è facile dirlo non abbiamo voluto nominarlo e questo è anche il compito che ci diamo probabilmente mentre attraversiamo il testo di provare a scoprirlo durante questo è uno degli aspetti diciamo portanti del percorso e della traiettoria di di Lopagin in questa versione senza altro non è una cosa che sempre viene accentuata appunto come dicevi insieme ad altre cose perché appunto sono sono personaggi molto complessi c'è la vita appunto come diceva Piero c'è la vita che scorre e le contraddizioni trasudano da loro ma non ne hanno neanche non riescono neanche così tanto a pilotarle ecco ne vengono sorpresi in Lopagin c'è senz'altro una forte spinta per verso un obiettivo si e infatti non credo che dall'inizio si capisca che non c'è nessun dubbio nel momento in cui Liuba consegna il desiderio di vedere il desiderio sistemata e chiede all'Opagin di fargli la dichiarazione ecco credo che in quel caso all'Opagin non passa proprio non gliela fa la dichiarazione e non ha intenzione di farla cioè lui è portato ad altro e questo mi viene se vuoi vorrei chiamare forse vi lascio il il mio posto no 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 lascio il mio Vagna perché Vagna che è costruita nel testo in coppia in qualche modo con l'Opagin deve misurarsi con l'Opagin che è veramente orientato ad altro a altri interessi Roberta Lanade sì io ci credo tutte le sere poi non succede mai purtroppo varia varia poverina tutti quelli che hanno visto lo spettacolo mi hanno detto mamma mia con te identipatica volevo ucciderti a un certo punto però così sono le persone prive d'amore cioè lei intanto è la figlia adottiva è stata adottata quindi i suoi genitori non si capisce bene chi siano ha questa mamma che non chiama proprio mamma chiama mamma chiama mammina e comunque la differenza con Ania che invece è la figlia vera naturale si sente quando loro se ne vanno a Parigi lei rimane lì a gestire la casa e la deve gestire a fronte di questi debiti enormi e siccome lei è una ragazza molto credente molto concreta molto perché tra il piacere dall'esercizio del dovere allora a un certo punto fa mangiare ai contadini ai domestici solo biselli perché in questo modo forse riusciamo a salvare la casa e loro iniziano a parlare male di lei la odiano dicono che è avara e quindi lei si trova ad affrontare questo odio continuo quando in realtà cerca solo amore l'opachin le promette di sposarla tutti le dicono che l'opachin la sposerà e alla fine non la sposa e lei se ne deve andare a fare l'economa a gestire un'altra casa abbandonando tutto quello che ha sempre amato prima di tutto la casa lei porta sempre le chiavi lei è la padrona porta le chiavi come Pietro e tutto quello crolla sotto i suoi occhi senza che lei possa fare niente infatti c'è un gesto molto significativo all'interno del testo quando l'opachin arriva e dice ho comprato io il giardino c'è un gesto sottolineato nel testo che è ben che è ben realizzato lei getta le chiavi a terra in questo momento però il gettare le chiavi a terra e il ritorno a a Walter ho avuto l'impressione diciamocelo questo è un testo che racconta una disfatta si è detto così va bene è una disfatta quanti testi racconta una disfatta il problema è che è una disfatta strano strana perché è una disfatta che nel secondo atto viene in qualche modo allontanata nel terzo esorcizzata e addirittura nel quarto sembra benedetta ah meno male cioè questo gesto delle chiavi potrebbe diventare quasi ci siamo levati un peso e questo mi sembra che tu lo sottolinei lo sottolinei molto dunque intanto abbiamo messo un pezzo nel programma di sala che non so neanche se sia in vendita ma perché ormai sono un po' desueti i programmi di sala ma forse tra un po' lo metteranno su web non lo so appena finisce il spettacolo quindi potrete poi leggerlo diciamo abbiamo preso un pezzo di Alexander Minkin che è un giornalista famoso e appassionato di teatro e da lì ho capito tante cose l'ho comprato a Gineva per caso questo libro e si chiama Un'anima dolce il libro che è esattamente l'appellativo con cui viene chiamato l'opachin da Trofimo che è curiosa quella cosa anche il primo pezzo che ho letto adesso c'è subito un doppio senso sessuale ma evitatelo le misure sono importanti nel senso che come dicevo più prima il giardino non è un giardino che ci immaginiamo noi ma è una proprietà vastissima che è molto il disegnino che ha fatto poi lui che si è studiato su mia proposta nella lavagna la città la volevo piccola rispetto alla proprietà la città grande città che lì vicino è molto più piccola della proprietà e questo è importante per gli spettatori di solito è una cosa che non viene tenuta in conto l'altro aspetto economico è che l'opachin vorrebbe salvarli continuamente probabilmente ha già prestato migliaia di rubri alla famiglia e all'Iuba è solo che c'è confettamente sottile che se non lo calchio se non studi il testo non te ne accorgi mi presta ancora dei soldi e lei dice sì certamente e oltretutto nello stesso punto dice le do 50.000 rubli che sono una cifra sostanziosissima e vabbè questo è un punto diciamo quindi l'altro cardine della nostra interpretazione che forse ha omesso per delicatezza non vuole parlare troppo ma è sicuramente il fatto perché Ciecovo voleva far fare a Stanislavski l'opachin perché voleva un mercante sì ma un mercante nobile lui insisteva in tutte le sue lettere insiste su questa natura del mercante che non deve essere un mercante avido come invece purtroppo molto spesso viene rappresentato cioè sì lui è un imprenditore quindi vuole fare i soldi non è che una mammola però diciamo le conseguenze poi economiche dell'acquisto per cui Gaia per esempio è contento perché viene sollevato da un problema è che alla fin fine come c'era una volta il West di Sergio Leone in cui la proprietà viene salvata dal 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 buono di turno che non è tanto buono ma in quel caso lì sì rispetto ai banditi che avrebbero contato la proprietà con niente e penso che Leone abbia in mente il Giardino dei Ciliegi lì c'è il milionario Deriganov che viene nominato che è il classico caimano e Lopachin combatte questo Deriganov e addirittura in un impeto salvifico per la famiglia offre 90.000 rubli oltre il debito il debito lo possiamo misurare intorno ai 40-50.000 rubli e quindi sostanzialmente a Minkin diciamo fa questa cosa e dice è un milione e mezzo di euro di oggi quindi sostanzialmente Anna potrà studiare e per quello che l'Uva non è cattiva quando dice mi tengo i 15.000 rubli della zia tiene una quantità modica di denaro in confronto a quello che poi la famiglia ha in mano ed è per quello che forse non lo so perché poi in Chekhov nulla esca anche questa cosa che lui non vuole sposare varie e non la dare così per scontata non la darei per scontata perché sono tante possibilità sottili che accadono una accanto all'altra e lui per un momento probabilmente ci pensa pure non si sa per quale motivo ma intanto si vede che c'è un rapporto precedente quindi che adesso è messo un pochino in ombra dal fatto che lui ha dato un'imprenditore rampante quindi non c'è tempo però appunto non la scarterei così a priori adesso poi non c'è tempo di fare tutte queste però sta di fatto che questa cifra è molto consistente per quello che forse Trofimov alla fine dice ma guardate ma in fondo ti voglio bene cioè i due che hanno battito il peccato per tutto il tempo del testo invece trovano questa dimensione il tratto bellissima questa dimensione che ormai è quella di solo più russo questa cosa dell'amicizia maschile di questi due che si abbracciano ti voglio bene Piccioncino gli dice Volucic gli dice Fausto Russoresi al nostro Giovanni Anzalto che fa Trofimov che sono tra l'altro appunto due opposti nel testo vengono proprio messi come due opposti che alla fine si incontrano io abbiamo 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 infatti se dobbiamo terminare alle sei e mezza chiedo al con qualche minuto di domande se sei d'accordo io vorrei velocemente chiamarli tutti ma se possiamo restare perché siccome c'è il video vorrei che tutta la compagnia fosse la nostra quindi se vorrei chiamarvi a uno a uno e chiedervi una cosa veloce se posso se sei d'accordo sì e infatti sì allora Giovanni Anzalto io mi sono in giro grazie sì che il sognatore li metterò qui a lato a questo punto senza cadere che il sognatore molto 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 energico molto molto rivoluzionario che però ha una una versione correggimi aiutami romantica c'è qualcosa di molto giovane per bene in verità vorrei che tu mi commentassi tu persona non l'ho visto bene perché poi è strano perché poi nella vita io mi drogo quindi no scherzo no ma per bene sì no più che altro quella cosa che abbiamo su cui abbiamo lavorato con Walter è insomma è un rivoluzionario quindi deve esprimere con forza le sue idee di solito è sempre stato rappresentato un po' abbastanza dimesso ed è invece no chi crede nelle proprie idee lo esprime con forza con 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 impeto e poi alla cosa per bene sinceramente non ci ho pensato però forse sarà perché non ti trovi allora senti bene esatto fra l'altro ha un'irruenza fisica che proprio cerca di comunicare questa 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 volontà stessa irruenza che in genere non hanno che invece li trovo ha segnalato anche nella giurinetta delicata Ania che invito a salire con noi qui grazie Federica Dordè ecco la scuola c'è ancora una scuola per l'attore del Tato Stato della scuola alla quale direi due parole sul suo personale sì diciamo che il personaggio ha un cambiamento all'interno del testo perché parte che diciamo è molto molto infantile però comunque è infantile ed è una ragazza di 17 anni abbastanza viziata e coccolata da tutti è vero che ha avuto in precedenza delle cose brutte in famiglia è morto il fratellino e il papà però comunque diciamo se la vive bene e durante il testo però affronta un cambiamento infatti diciamo si infatua di questo bel ragazzo qui accanto a me cresce e decide appunto di anche con appunto la vendita del giardino dei ciliegi capisce e dice io voglio studiare e voglio diciamo emanciparmi anche dal punto di vista femminile e quindi niente è un bel viaggio all'interno del personaggio e questo molto simile tra l'altro se qualcuno ha voglia di leggere gli ultimi racconti di Cecco sono bellissimi e questo è un racconto che si chiama La fidanzata che ha molto a che fare con questo personaggio il personaggio di Ania poi adesso Antonio mi chiedeva di chiamare gli altri protagonisti Eva Robbins ne ho anche tre insieme così poi Roberto Abbiati Risciti Alessandro Conti è andato per questa storia che a Mila Nigro è dovuto andare a truccarsi perché c'è un ordine di trucco un po' impietoso e quindi non è qui con noi tu ne lascia io chiederei a loro porca miseria i Epiklodov i Epiklodov la Camilla ha dovuto andare a farsi i capelli quindi non c'è se vuoi lo dico come lo dici tu non stavo sentando ho capito beh allora io siamo sulle ultime battute il tempo il tempo stringe chiederei ancora ai venire su ai personaggi agli attori che sono seguiti adesso un breve commento sul proprio personale tra l'altro appunto Cekov è sempre un terreno di prova molto molto importante e alcune volte difficile beh intanto sono molto grata a Malosti che ha pensato a me per questo piccolo grande personaggio che è un po' nomade è una governante ma in realtà governa l'intrattenimento quindi è sedutiva tra questi giochi di prestigio che che incantano però in realtà cioè vive lo sgomento di dover abbandonare questa casa e questa famiglia niente posso farti una domanda ma quando eravamo a Chiusi che tu recitavamo in due spettacoli diversi è lì che ti è venuto in mente il Cekov perché c'era qualcosa di Cekov nell'omosessuale e la difficoltà di esprimersi che noi facevamo un piccolo riferimento alle tre sorelle di Cekov ti è rimasto nell'inconscio e poi niente mi scrisse quando in quel periodo ah mi è venuta una piccola idea ma non era questa l'idea era già questa bene grazie Malosti qua è venuta abbiamo la parte che dà una forza molto comica entrambi sono fanno delle scene che si ride sono ridete ridete si può ridere si può ridere si si può ridere grazie beh mi dispiace ma succede anche questo e siamo sono grazie grazie a tutti voi Epikodov è un personaggio chiaramente decisamente comico e come ogni buon comico ha una parte di dramma interiore molto forte insomma che vive a me ricorda molto Walter poco fa ha parlato dei racconti di Cekov che sono tantissimi tutti sono molto belli questo personaggio Epikodov ha sempre ricordato un po' invece il personaggio dei danni del tabacco che è un atto unico di Cekov che è questo uomo che subisce diciamo in maniera molto forte la presenza di sua moglie che lo manda a tenere una conferenza sui danni del tabacco cosa di cui lui non sa assolutamente nulla non essendo un medico per cui è molto particolare ho avuto anche la fortuna di farlo in scena con Irene Rambucci in uno spettacolo svenimenti che abbiamo fatto proprio qui e quindi insomma ci sono una serie di rimasti fra questi personaggi molto ricchi e molto densi sebbene siano anche personaggi come dire che stanno sullo sfondo insomma passo la parola a Beati prego Salve il mio personaggio è cioè nella storia del teatro si può dire ci sono state le grandi coppie dove c'era qualcuno che costruiva poi qualcuno che distruggeva io sono il distruttore di tutte le abilità e tutte le cose che vengono costruite per cui avete in mente cioè Stan Laura e Oliver Hardy il genio era Stan cioè lui come si ti pronuncia eh sono della prienza eh e sì sono anche dislessico quindi c'è anche brunesi cioè quindi io capisco che devo tantissimo della comicità se c'è di qualche faccio è perché distruggo tutto quello che altri hanno così abilmente costruito in questo spettacolo cioè tutte le abilità loro sono è proprio come il personaggio di Pichy cioè lui chiede continuamente cioè vuol dire io devo restituire molto a loro insomma quindi me la cavo benissimo cioè io sono lì così e a posto credo che dietro ci sta per dare il time out forse dovrei vorrei vorrei che ci fosse però ancora il tempo per due domande del pubblico salve salve a tutti molto bravo è l'unico che fa due personaggi beh sì due personaggi minori però il viandante me lo immagino come il contadino che un giorno ucciderà la famiglia Romano quindi quindi ci sta grazie a tutti noi abbiamo molto a cuore questi incontri perché sono frutto di una collaborazione molto sentita diciamo pure con i docenti di teatro dell'università Antonio Pizzo oggi e poi tutti i prossimi appuntamenti saranno o lui di nuovo o altri suoi colleghi ma abbiamo anche un docente emerito qua che è venuto apposta e credo voglia fare una domanda al professor Roberto Alonce a lui da parole ma io volevo chiedere a Walter Malosti questo personaggio dell'eterno studente tu sei veramente convinto di questo taglio come dire di prenderlo sul serio perché ho l'impressione è solo un'impressione non giurerei neanche sulla mia idea che in realtà in Chekhov ci sia un po' sempre questo motivo dobbiamo lavorare dobbiamo fare per esempio nelle tre sorelle e poi in realtà nessuno lavora mai cioè e la battuta che fa la padrona del giardino a un certo punto si arrabbia dice ma beh però ragazzo mio ti devi laureare allora è vero che lui viene detto che lui è stato cacciato da due volte dall'università e quindi è legittimo immaginare che sia stato cacciato perché è rivoluzionario eccetera eccetera però non è neanche da escludere che in realtà Chekhov che certamente era un uomo aperto ma che insomma non mi pare che fosse insomma un rivoluzionario convinto al cento per cento che ci sia in questa tu giustamente hai sottolineato che c'è un'ambiguità nella scrittura di Chekhov allora anche questo vedere il personaggio dell'eterno studente da un lato pieno di ideali eccetera ma dall'altro lato anche un po' come l'eterno studente inconcludente e che e che si c'è un'altra battuta di della padrona che è carina quando lui dice noi siamo al di sopra dell'amore e lei dice io sono al di sotto dell'amore no? cioè come dire lui è un po' un venditore di fumo in qualche modo naturalmente trovo giusto che ci sia la statua di Lenin sospesa nel quarto atto però un conto è dire c'è la storia che incombe eccetera eccetera e un conto è prendere troppo sul serio il personaggio dello studente capisco che tu hai recuperato delle battute del testo originale in cui che sono molto più forti e che la censura zarista aveva soppresso però insomma è un dubbio che ho non voglio insistere più di tanto su questo l'altro punto poi finisco rapidamente l'altro punto molto interessante che mi sembra effettivamente il pezzo forte dello spettacolo è quel bacio che il personaggio di Lopakin dà alla signora però c'è una tradizione per esempio Stanislaschi nelle note di regia dice che nel momento in cui stanno per arrivare lui si guarda allo specchio e si fa bello tu sei più bravo perché tiri fuori che lui si tira fuori il profumo e si quindi c'è ripeto già in Stanislaschi l'idea che lui sia affascinato e voglia essere bello per la signora tu insisti di più con il profumo e quindi dai una connotazione più forte e mi sembra che ci stia anche questo che lui non sposi per lo meno in quel momento molto bella la scena che tu costruisci con tutte queste pause del rapporto quando lui dovrebbe fare la dichiarazione avaria e non gliela fa mai però lui certamente non può in quel momento lui è affascinato dall'aristocratica e non dalla sua pari grado quindi lui è uno che dice in teoria per esempio Greenprovera Dunyashka e le dice non sai stare al tuo posto ma in realtà lui vuole salire di posto però a me su tutto questo mi chiedo se il bacio non è un po' troppo forte insomma nel senso che rompe il codice di un'aristocratica la quale tutto sommato guarda un po' non dico dall'alto in basso ma insomma l'aristocratica approfitta un po' dell'influenza che ha su questo uomo per cui gli prende sempre soldi in prestito che poi darà o non ridarà in sostanza ecco questi sono le due allora dunque Trofimov Trofimov corrisponde a tutte le altre diciamo parti nel senso che io ho preso sul serio tutte le parti cioè di ogni parte ho cercato di cioè la mia lavoro ormai da un po' di anni così cioè prendo diciamo non 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 faccio più quel lavoro in qualche modo di mettermi dal di fuori a giudicare i personaggi ma voglio che ogni personaggio sia più credibile possibile e che ogni personaggio sia per lui sia l'unica cosa possibile da fare e e quindi sono ripeto come dicevo prima sono delle traiettorie sono tredici quattordici traiettorie di personaggio ognuno di loro ha le sue ragioni quindi le spingo fino in fondo non sono contrario a e penso che anche Chekhov lo fosse a questa distinzione bene e male così non così e tutto purtroppo è scritto non so fare un paragone adesso musicale ma è molto rarefatto cioè Debussy diciamo non sai mai la nota prossima quale sarà e quindi non è non è mai c'è anche la signora la signora poi è quella più complessa secondo me come carattere e Chekhov insisteva molto sul fatto che fosse frivola perché lui c'era con la Knieper diceva non sei abbastanza frivola ma frivola appunto vuol dire siccome c'è che molta Parigi era entrata in lei però tutto questo è a strati cioè c'è quello e poi c'è uno è molto complicato da rendere e per Trofimo aveva in mente questa cosa lui usa dei termini religiosi descrivendo la sua fede politica cioè ad esempio eccolo che sta venendo eccolo che viene e lo spirito no? è la stessa in russo è la stessa diciamo formula che usano nella liturgia e quindi è interessante come si bacino le due cose come d'altra parte è così gli estremi che si congiungono quindi ho voluto spingere la sua traiettoria fino in fondo ho voluto che tra l'altro leggo i personaggi attraverso quello che dicono gli altri e lo prendo alla lettera cioè ad esempio la signora dice ma come sei intelligente oppure come sei incapace alla fine perché è intelligente dal punto di vista intellettuale ed è incapace al punto di vista umano diciamo l'umanità diciamo sessuale diciamo non nega appunto quella cosa che dicevi tu sopra noi siamo al di sopra dell'amore lui nega quell'aspetto lì quindi è un personaggio composito che ha tanti aspetti non ne ha uno solo l'altra domanda era il bacio il bacio anche lì dunque dunque l'azione è che l'opache bacia gli uomini non è che si baciano e quindi da lì poi le reazioni dei due sono molto diverse sono come cioè se non voglio entrare troppo perché poi non mi piace andare troppo magari poi se poi ci vediamo ne parliamo insieme insomma ma lì è veramente lasciato la libertà di chi guarda anche capire è molto chiaro quello che fanno loro due lì e quali sono però è una cosa che accade e lei dice è magnifico ma non sappiamo cosa vuol dire magnifico se è magnifico che se la sposa se è magnifico che l'ha baciata bene se è magnifico che non so cioè sono è tutto la cosa che in cieco è tutto sospeso non c'è non c'è mai una cosa netta lo sappiamo solo dopo noi quindi dopo c'è stato Lienien insomma quello lo sappiamo noi quello lo sappiamo tra l'altro lui non era anche troppo impegnato politicamente c'era un uomo molto impegnato socialmente è stato un uomo straordinario dal punto di vista umano e anche sociale cioè se pensi tanto nel suo testamento ha lasciato tutti i diritti delle sue opere ai poveri della sua città quindi poi è andato appunto a Sacanina a fare questo reportage sugli esiliati che erano soprattutto politici e le immagini sono terrificanti non so se ne avete mai visto ci sono questi esiliati questi costretti lavori forzati che lavorano con questi carri lavorano in miniero soprattutto e sono legati con la catena ai carrelli quindi è un altro amore e questo penso di aver risposto posso aggiungere una piccola cosa come contadorista della scena una piccola cosa che si vive da dentro andando da dentro lasciandosi proprio abbandonandosi la scrittura di Tchaikov e ad aprire tutte le possibilità questa cosa del bacio è venuta non da una cosa mentale ma da un'apertura sensuale che è tanto Tchaikov possiamo contemporaneamente lasciare che accada qualche cosa con una persona pur amandone un'altra possiamo non riuscire a dire il nostro amore per una persona che sentiamo simile perché siamo dei pianeti che non riescono a comunicare e quindi è anche come nella macro storia di quando la vede Tchaikov le cose a perdita di un giardino immenso può avvenire così nell'incoscienza nell'inconsapevolezza nel non voler guardare la storia che cambia la propria vita che cambia esattamente come i deportati andavano non capendo dove stavano non volendo vedere dove andavano allo stesso modo nella vita può accadere di essere sorpresi da una corrente dalla ricchezza parlo di sensualità proprio nel senso di vita ampia può capitare di essere travolti e sorpresi da cose che non si immaginano e questo ci aiuta a fare Tchaikov a sentire quante cose la nostra mente non riesce a immaginare e poi vengono chiudo io allora chiudo con un ringraziamento anzitutto a Antonio Pizzo per questo incontro a tutta la compagnia anche agli altri professori dell'università che sono qui presenti perché prima ho privilegiato il professore Merito ma abbiamo con noi anche Armando Petrini e Federica Mazzocchi e forse altri se mi sfuggono perdonatemi ringrazio la compagnia a tutti voi e vi do l'appuntamento per mercoledì della prossima settimana perché oggi per il prossimo appuntamento che è dedicato alla signorina Felicità lo spettacolo che si sta montando dietro a questo sipario qualche modo per ospitare questo incontro abbiamo chiesto ospitalità alle prove abbiamo adattato l'orario delle prove della compagnia che sta debuttando con questo nuovo spettacolo e quindi non mancate mercoledì prossimo alle 17.30 grazie a tutti 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 grazie a tutti